Questo potrebbe essere il più bene interno di un amplificatore che ho mai visto. Ma facciamo un passo indietro. L'obiettivo di oggi era capire qualcosa di più su questo amplificatore tedesco che abbiamo ritirato. Perché pesa 40 kg? È davvero costruito così bene come sembra? Dopo esservi scervellato, svitato nel cilio di viti, scollegato alle ventole, scopriamo questo BMC S1. Siamo in Germania, più precisamente a Berlino, con questo BMC S1. Beh ragazzi, ora capisco perché pesa 40 kg. Guardate che costruzione interna. Azienda BMC, cui slogan è The Sound of Nature. Quindi ci aspettiamo un suono molto naturale, molto cristallino. Amplificatore integrato RCA XLR, capace di erogare 350 Watt per canale su 4 Ohm e 200 Watt per canale su 8 Ohm. Un amplificatore che sicuramente non teme anche i carichi più difficili. Abbiamo un listino di 4.900 euro. E voi cosa ne pensate di questi marchi un po' diversi con queste bellissime costruzioni? Li acquistereste? Fatemelo sapere nei commenti. Questo potrebbe essere il più bene interno di un amplificatore che ho mai visto.